anche domani come da 30 anni in quasi commemorerà la morte di giovanni falcone assassinato dalla mafia il 23 maggio 1992 assieme la moglie francesca morvillo ea tre uomini della scorta l'auto su cui viaggiava fu fatta saltare in aria con una carica di tritolo comandata a distanza piazzata sull'autostrada nei pressi di capaci dopo la sua morte iniziò il processo vergognoso e ipocrita di appropriazione indebita della sua eredità le stesse persone gli stessi gruppi di partiti sul stesso gruppo di pressioni e partiti che ne avevano sabotato l'opera e vulnerato l'immagine persino sospettandolo di collusioni ambigue lo eressero al loro simbolo sacrale vale la pena di ricostruire questa monumentale ipocrisia alla vigilia del referendum che dovrà ammettere finalmente una parola fine allo strapotere iniquo del csm dell'associazione nazionale magistrati e di questi impiegati dello stato che vogliono prevaricare lo stato il merito di giovanni falcone era stato quello di studiare cosa nostra con la mentalità di un siciliano assieme a paolo borsellino giuseppe iala che anni fa ne ha raccontato la storia in un documentatissimo libro iddagò in europa e oltreoceano e acquisì documenti riservati e conti bancari e soprattutto ascoltò vari pentiti distinguendo abilmente quelli veri da quelli falsi fu un lavoro certosino e quando nel febbraio dell'86 460 imputati vennero portati alla sbarra le prove erano solide e inoppugnabili il 16 dicembre dell'87 dopo decine di udienze e 36 giorni di camera di consiglio la corte d'assise di palermo irrogò una serie di condanne severe per la prima volta nella storia del paese cosa nostra era stata decapitata con la sola forza del diritto e nel rispetto della legalità costituzionale e falcone diventò il simbolo di questa impresa vittoriosa questo successo come talvolta accade fu coronato da quelle lodi banali enfatiche che in realtà nascondono l'invidia corrosiva il timore di una personalità emergente falcone era un magistrato svincolato da ogni parrocchia ideologica e motivato esclusivamente dal rispetto della legge come dovrebbe essere per ogni magistrato un professione ormai che va quasi di padre in figlio nonostante la mediocrità imperversante sosteneva la separazione delle carriera che per il sindacato delle toghe era una specie di bestemmia era in definitiva una personalità indipendente che minacciava di scardinare con il suo indiscusso prestigio quella consolidata struttura di potere correntizio del consiglio superiore della magistratura che in questi anni è emersa con gli scandali di palamara e conflitti all'interno della procura di milano dove vari magistrati sono stati indagati e uno dei simboli più noti di mani pulite è stato addirittura rinviato a giudizio pensate un po falcone condivideva la battuta di aiala che la magistratura fosse come la grappa di cui bisogna tagliare la testa e la coda e la testa convenivano sono il csm e i meccanismi clienterari dell'associazione nazionale magistrati i due organismi quindi si mossero per isolarlo il che in sicilia significava prepararne il funerale la prima stoccata arrivò subito la carica di capo degli uffici istituzione era vacante e falcone nera il pretendente naturale la sua candidatura era insidiata da quella di alessandro meli che era un magistrato integerrimo e di 16 anni più anziano ma del tutto inesperto di criminalità il consiglio superiore della magistratura si divise fu una divisione trasversale che vide contrapposti anche membri della stessa corrente quella di sinistra in genere assai compatta espresse due voti opposti giancarlo caselli a favore di falcone ed elena paciotti contro alla fine con 14 voti contro 10 fu prescelto meli falcone incassò con signorilità ma capì che qualcosa stava cambiando paolo borsellino fu molto più schietto e severo falcone disse non è più il titolare delle grandi inchieste e ci sono seri tentativi per smantellare definitivamente il pull antimafia cosa nostra si è riorganizzata come prima più di prima la corata denuncia fu subito censurata a grande maggioranza dal csm come voleva si dimostrare e il presidente cossiga manifestò a falcone la sua solidarietà e cominciò a esternare i suoi dubbi sulla imparzialità della magistratura e del suo organo di autogoverno di cui voglie volle presiedere come prevede la costituzione le sedute più importanti le toghe videro con sospetto e irritazione questa iniziativa che consideravano un'intrusione molesta e corsero ai ripari pensate personale impiegatizio dello stato che vuole prevaricare l'organo supremo dello stato cialtroni poco dopo anche contro di lui contro cossiga iniziarono quindi le bordate prima fu accusato di aver coperto gladio una struttura legittima eretta nell'ambito della nato poi gli fu dato del matto e infine il pc ne chiese la messa in stato di accusa nauseato il brillante colto esuberante presidente se ne andò sbattendo la porta la magistratura stava scalando il potere sì per falcone le umiliazioni continuarono al momento della nomina dell'alto commissario per la lotta contro la mafia gli fu preferito domenico sicca magistrato così esperto nel settore che appena insediato si esordì così la mafia ma son qui per capire cos'è pensate tu e tutti applaudirono deliziati non era finita il 19 giugno 1989 furono scoperti 50 candelotti di dinamite vicino alla villa al mare affittata da falcone si diffuse la voce che avesse fatto gli avesse fatti mettere perfino lui e poi arrivarono varie lettere anonime che lo accusavano di mala gestione di alcuni pentiti isolato nella professione del uso dei colleghi falcone accettò un incarico ai vertici del ministero della giustizia allora retto da claudio martelli alle anime belle della magistratura di sinistra questo sembrò un tradimento martelli era craxi craxi era il socialismo riformista anticomunista ce n'era abbastanza per scatenare una lotta a canicta leo luca orlando insinuò che falcone tenesse prove importanti nascoste nel cassetto altri professionisti dell'antimafia si unirono a questo indegno accusandolo di essersi venduto l'anima cialtroni falcone ne soffrì ma continuò a studiare una strategia vincente contro la criminalità organizzata elaborò il progetto di una struttura unica una con competenza nazionale fu così istituita la cosiddetta super procura ma non fu lui a serne il primo reggitore anche qui il csm pose il veto i più accaniti avversari furono i membri laici indicati dal pc pds capito da lema pc pds poco dopo capaci mise fine a questa opera di demolizione morale con la morte arrivò naturalmente anche la beatificazione come può essere proprio ad opera di quelli che lo avevano combattuto beh naturale e sì non si trattò di una purificatrice devozione tardiva di un rimorso per le insinuazioni grette di una penitente ammissione di colpe di perfidie no no perché loro sono unti dal signore i sinistrorsi al contrario nella tradizione del più puro leninismo si manipolò la storia ricostruendo il passato a propria utilità e il peggio è che molti ci credettero o ritennero comodo crederci ma la verità risiede nelle tremende parole proprio di paolo borsellino la magistratura che forse ha più colpe di ogni altro cominciò a far morire giovanni falcone il primo gennaio 1988 pochi giorni dopo a paolo borsellino sarebbe stata riservata la medesima sorte dell'amico un grande sì al referendum del 12 giugno contro questa magistratura impraticabile